Ciao amici da Frank Bianconero, torniamo sul post partita di ieri e ovviamente quello che Sadi si è permesso di dire secondo me in maniera un po' troppo brusca. Se partiamo dalla partita, premesso che abbiamo meritato di perdere, premesso che Sadi ha sbagliato, premesso che hanno fatto tutta la partita da due tranne qualcuno da cinque, due o tre persone, premesso che non è solo colpa di Matuidi ma non è da Juve, tutte queste premesse per arrivare poi al dopo partita e le dichiarazioni di Mr. Sadi. Intanto voglio dire calma perché questo signore qua intanto è arrivato senza chiedere nulla dal mercato e si è trovato questa rosa. Poi, visto che siamo o siete, sono tutti competenti, mi spiegate se il credo calcistico di Sarri equivale alla rosa e al centrocampo che lui ha per le mani. Ecco, stavo pensando ancora tra me e me le frasi di Sarri che si è tra virgolette compiaciuto che in caso di sconfitta è stato meglio aver perso con il Napoli perché i suoi ragazzi gli hanno dato tanto. Intanto stiamo parlando di un allenatore che già prima di arrivare dal punto di vista della comunicazione sapevamo tutti che poteva cadere in qualche, diciamo, tranello perché lui è pane al pane e il vino al vino. E in questo mondo ipocrita e moralista personaggi come Sarri fanno più discutere che invece prenderli perché sono per come sono. E' normale che io volessi Sarri come allenatore nella comunicazione volevo allegri perché era uno capace a districarsi, diciamo, bene davanti alle tv e microfoni o a dire e non dire quello che pensava in maniera più sottile. Ma voglio ricordarvi anche che un allenatore che è stato vent'anni alla Juve è andato in un'altra squadra che a noi hanno mandato in B, ancora dobbiamo sapere qual è il motivo perché nessuno si esprime, che ha detto che è il primo tifoso e sarà sempre tifoso quando va via. Perciò vediamo Sarri che ha sempre detto che è nato a Napoli, tifava Napoli quando c'era Maradona. Ieri non ha fatto altro che essere onesto. Ha detto quello che pensava. A noi non piace perché noi della Juve abbiamo una mentalità che vincere è l'unica cosa che conta. E ci sta. All'Ajuve sicuramente qualcuno può dirgli qualcosa, ma chi l'ha preso sapeva il personaggio che si andava a prendere. Perciò non facciamo, diciamo, una burrasca, secondo me, per nulla, perché io mi vergognerei più per come ha giocato la squadra. Io sono più arrabbiato con Sarri perché se mi parli di squadra, molle, senza motivazione, che camminavano, che erano a metà tra pressare e non pressare, questo lo deve fare lui. Questo lo deve fare lui. Il trasmettere voglia, cattiveria e vincere lo deve trasmettere l'allenatore. Le dichiarazioni, lasciamoli poi a fare i titoli dei giornali, lui è napoletano e ha ribadito che è tifoso del Napoli. E da noi sta facendo il professionista. Ecco perché vi ho detto che c'è un altro che ha detto il primo tifoso di ogni squadra che allena. Vedo Velle ancora di quell'elemento. Ora si stanno ricredendo tutti della persona che è, perché lo dicevo io da sempre, che come persona vale zero. Sarri poteva dire Ho sbagliato. Ho sbagliato partita, volevo dire. Non lasciare quelle dichiarazioni, poteva dire a caressa Il Napoli è capitato nella nostra peggior partita, hanno vinto loro, complimenti a loro, finiva là, se si vuole essere sempre democratici. Ma basta con questo moralismo di portare avanti dichiarazioni come fare un leggio. Lui è così, si mette la mano al naso. Accettiamo il personaggio. Accettiamo che comunque un allenatore, ripeto, con una rosa non sua, che sta su tre competizioni. Tre competizioni. Tre competizioni. Siamo ancora prima in classifica. Abbiamo un calendario che se i giocatori vogliono, perché alla fine vanno i giocatori in campo, lo possiamo perdere solo noi, lo scudetto. In Champions valuteremo. Ma non ci fermiamo alle dichiarazioni di Sarri. Io mi soffermo pure che un allenatore di quel livello possa dire che la squadra è molle. La squadra la gestisco, la carico io, l'alleno io, la devo motivare io. Perché io parlo di campo. Il fumo, il dopo partita, c'è da dimenticarsene. Vediamo la partita di ieri. Un allenatore che ha provato per vincere la partita, perché ieri ha fatto un gesto. Poi la partita è andata come è andata. Ha fatto un gesto di mettere subito il tridente. Per dimostrare anche alla squadra che voleva vincere a tutti i costi. Se poi viene quella prestazione, non possiamo farci nulla. Non si può vincere tutte le partite e sempre. Ci sarà un periodo, o un anno, o due anni, che si può anche non vincere nulla. Noi stiamo parlando di tifosi fortunati, secondo me un po' troppo abituati bene. C'è mancata la Champions, ma siamo arrivati due volte in finale. Ce la siamo giocata sempre con i più grandi club europei, mentre le altre squadre italiane erano esistenti. Perciò siamo abituati troppo bene. Pensate a quegli altri ieri che, bordello, non hanno ricevuto un'espulsione. Hanno fatto un gol irregolare. E' stato espulso uno che ha fatto fallo e pensava di aver subito fallo. Hanno aggredito in dieci l'allenatore. E' dieci anni che non vincono nulla. E si stanno lamentando. Questa è la pochezza del nostro avversario. Perciò, io l'unica cosa che dico è che Paratici può fare qualche miracolo. Fare arrivare Kurzawa, fare arrivare Rakitic, togliere Matuidi dei titolari, togliere Pjanic dei titolari, fare un centrocampo più dinamico e con Betancur davanti alla difesa. Questo è quello che io dico. E poi, noi non abbiamo Chiellini. L'unico rimasto realmente ad avere la mentalità Juve è che devi lottare a prescindere, anche se la prestazione è buona o non è buona. Perciò le chiacchiere non servono a niente. Servono a maggio, quando finirà la stagione, speriamo più tardi possibile, e servono gli albi d'oro, l'albo d'oro serve. Le chiacchiere, lasciamo le a Caressa, la Rai, a Variale, a quelli del Napoli. Ieri hanno festeggiato a 24 punti di distanza, ci chiamano rivali, stanno a 24 punti di distanza, festeggiano come avessero vinto lo Scudetto. Quello è il nostro calcio. Ci siamo solo noi. E solo noi possiamo perderlo o vincerlo. Perciò sosteniamo la squadra e Sarri. Sosteniamo la squadra e Sarri. Le chiacchiere, lasciamo fare a chi fa le chiacchiere. Noi dobbiamo sperare di vincere, che si migliori, si gioca meglio, possiamo andare il più avanti possibile in Champions. La nostra ossessione, il nostro volere è quello. E ripeto, prima o poi ci sarà un anno dove perderemo lo Scudetto. Non si potrà vincere per 50 anni di fine. Ciao a tutti da Frank Bianconero. Iscrivetevi al canale. Buona serata.